Marco, quanto l'hai cercato questo gol? In questo... In... Ormai... Qua' l'altra parte c'è? Tantissimo Brindale da anni che lo cercavo Perché aveva un po' di anni che non segnavo Da quanto? Eh, cinque anni E... E' arrivato, penso, al momento migliore Dove serviva di più Ecco, al di là di questo gol che hai cercato L'hai voluto però è stata una partita enorme Tua di lavoro In fase di costruzione, in fase di rottura Sei andato indietro, in più Sei andato a recuperare i palloni E non era facile perché a un certo punto avevi Il peso di un cartellino dopo 30 secondi Penso dopo cinque secondi E' stato un giallo un po' assurdo per me Però è andata E' stata una partita di sacrificio Come tutta la squadra Ma sapevamo che queste sono partite così E' stata una partita che tutto il gruppo ha dato l'anima E l'abbiamo portata a casa Solo primo tempo Ecco, cosa vi sentirei? Cosa ti ho pensato? Non ci siamo andati a protestare E dopo il rosso ha A Sancio avete detto E' tutti in salita Mi è passato un attimo in testa questo Adesso Deve cambiare praticamente qualcosa Ovviamente Sì, sapevamo che deve andare qualcosa in più Di quello aveva andato fino a quel momento Perché Oggi non l'abbiamo approcciato benissimo Per essere sincero Abbiamo faticato all'inizio Nelle distanze, nelle aggressioni Dopo il rosso ci si è resi conto Di non andare fuori qualcosa in più E secondo me è venuto fuori E poi c'è un professor Rigore Che in parte All'inizio Ma Soprattutto anche Probabilmente Chiude la questa partita Il loro pareggio Anche quello vi ha Un po' Riportate un po' di paura dentro Oppure ormai Quell'approccio Che ti dicevi Un po' caticoso Però la tenessa le spalle Secondo me Quello no La paura non c'è stata Dopo il gol preso Dopo il rigore Ci siamo detti Che dovevamo reagire E dovevamo ripartire Nell'ultimo mese Secondo me C'è sempre reazioni Dopo gli eventi negativi Esatto Questa è stata un po' una differenza Che altre volte Magari prendevi il gol O in avvio Oppure Ti facevi rimontare E la squadra un po' Un clicco Si sollievano Si impauriva Si bloccava Ecco Questa è stata una maturazione Che è stata che era una maturazione di testa Sì Infatti Dopo ancora Avevo detto che Le ultime tre partite Ci servivano Per capire Chi eravamo come squadra E secondo me L'abbiamo capito E mentalmente Siamo cambiate Rispetto a tutta la stagione Pensate che sia Il 50% Il 60% Se li andavano a presentare Pensate che riazzerriamo tutto E' una cagata Si riazzerro tutto E' una cagata Un'altra partita Però Comunque La gente lì Molto di più A questo punto C'erano tantissimi qui Credo che sia un appello Da fare anche alla città Venire sabato Perché è veramente La partita Esatto Domenica Sabato E' la partita Della stagione E infatti Speriamo che sia Più gente possibile Che ci viene a mano Come oggi Perché è stato Fantastico Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.